La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. Dopo mezz'ora dall'incidente sul posto insieme alla polstrada sono arrivati i vigili del fuoco, ambulanze del 118, personale di autostrade. Nello stesso tempo sono stati allertati gli ospedali di Ariano, Irpino, Avellino e Benevento. A 10 minuti più 10, Rosaria Bruno, responsabile dell'emergenza territoriale del 118, ha raccontato come si sono mossi nell'immediato i soccorritori. In questa situazione la cosa più importante è mantenere la calma e cercare di aumentare le risorse, quindi reclutare le risorse perché oltre a gestire questa che è una macchina di emergenza bisogna ovviamente garantire la normale situazione del servizio di emergenza, centralizzare quelli che sono il triaggio. Infatti immediatamente sul posto si è recato un anestesista pianinatore della centrale operativa di Avellino con una serie di ambulanze, alcune medicalizzate e altre con soccorritori avanzati. Quindi abbiamo garantito immediatamente il trasporto nell'ospedale più adeguato dei feriti. Mi hanno immediatamente avvertito che non si trattava del solito incidente ma che c'era una macchina di emergenza. Quindi immediatamente ho dato disposizioni per aumentare gli operatori all'interno della centrale per cercare di seguire l'evento step by step. Quindi da quel momento in poi c'è stata una continua interlocuzione sia con la centrale, sia con i medici sul posto, sia con i soccorritori e anche soprattutto con i vigili del fuoco. Il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha seguito direttamente le operazioni di soccorso. Fondamentale è la corroborazione tra i soccorritori come sottolinea il comandante dei vigili del fuoco, Mario Bellizzi. Siamo intervenuti con due squadre perché per fortuna, date le condizioni meteo, avevamo raddoppiato la presenza di squadre di Porta Minardo. Quindi sono intervenuti con due squadre di Porta Minardo, è intervenuto a Bisaccia, è intervenuto la nostra squadra della Sede Centrale e anche lato più da Vittu. Quindi tutto sono intervenuti 23 unità per operare i primi interventi di recupero feriti e poi successivamente anche il recupero del Pumano.